Tragedia nel centro storico di Campobasso. Una donna di 47 anni è stata ritrovata morta nella propria abitazione. Il decesso probabilmente avvenuto diverse settimane fa. Una storia di solitudine finita in tragedia. La donna, classe 1977, era originaria di Molfetta, si era trasferita a Campobasso da qualche tempo. Della 47enne non si avevano notizie da tempo. È stata la proprietaria di casa ad allarmare le forze dell'ordine. Non facile l'intervento delle autorità. La donna era in avanzato stato di decomposizione, ritrovata in bagno. Il suo telefono cellulare invece era sul tavolo di cucina. È proprio l'inattività del dispositivo che fa presumere il decesso a circa due mesi fa, ovvero il suo ultimo utilizzo. L'appartamento è stato attenzionato nel dettaglio dalle autorità che hanno provveduto ai rilievi del caso. Possibile venga disposta l'autopsia, ma da quanto risulta la donna sarebbe morta per cause naturali. Non si registrano segni di effrazione. Situazione analoga o quasi si è registrata a Toro, comune limitrofo del capoluogo, distanti una decina di chilometri, dove è stato trovato senza vita in casa un uomo di 69 anni.